L'assessorato alla sanità provinciale e il comitato spontaneo nato per salvare il punto nascita arcense ieri a Trento hanno avuto un vero e proprio faccia a faccia. Il comitato altogardesano è stato convocato in commissione per illustrare le ragioni per le quali 12.000 cittadini hanno sottoscritto nei mesi scorsi la richiesta di non chiudere e successivamente di riaprire in deroga il punto nascite di Arco. A guidare la delegazione altogardesana e neopresidente del comitato Riccardo Carniel. Abbiamo esposto le nostre posizioni, spiega. Ci sembra sia emersa da parte della provincia l'indisponibilità di portare avanti la nuova richiesta di deroga in assenza di dati diversi da quelli già inviati a Roma l'anno scorso. L'assessore in pratica è certo che in questo modo si otterrebbe una nuova bocciatura. Ognuno è rimasto nella sua posizione, abbiamo ribadito da parte nostra il giudizio sui dati forniti da Trento. Sicuramente potrebbero essere rivisti e riproposti in modo diverso, con una formula più approfondita che non faccia tirare conclusioni sbagliate alla commissione ministeriale. La battaglia del comitato quindi non si ferma. E sullo stesso argomento è tornato nei giorni scorsi il sindaco di Tenno Gianluca Frizzi. Con o senza i sindaci dell'Alto Garda, con o senza il comitato per la salvaguardia del punto nascite di Arco, organizzerò una serata per dimostrare che non si chiude per ragioni di sicurezza, ha dichiarato, ma per l'espressa volontà di non garantire quella sicurezza necessaria a mantenere gli standard di apertura. Frizzi ricorda che uno dei compiti del sindaco è portare avanti le istanze dei propri cittadini. Per questo, chiarisce Frizzi, sono sceso a Roma con quelle 12.000 firme, per tutelare il volere di chi mi ha votato. Dobbiamo finirla con queste accuse infondate. I sindaci sono eletti dal popolo e non dai partiti. Secondo Frizzi, il punto nascite di Arco non sarebbe stato chiuso per ragioni di sicurezza, bensì per espressa volontà politica di non usare le risorse economiche destinate a garantire la sicurezza necessaria al suo mantenimento. Soldi sottratti al punto nascite, chiude il sindaco, che saranno dirottati per il nuovo ospedale di Trento.